Onorevole Massimiliano Federica, come commenta il voto che la Lega Nord ha preso in questo voto amministrativo? Sicuramente il dato che ha influito di più è quello dell'astensionismo. Infatti battaglia importante sarà al secondo turno riuscire a convincere la gente a andare a votare. Convincerla perché chi non va a votare non decide sul proprio futuro, il futuro del proprio territorio. E vuol dire per esempio quanto pagherà il cittadino di Imu, di Tares, quanto costeranno gli asili comunali e quanti ce ne saranno a servizio della popolazione. È chiaro che tutti questi servizi sono decisi da un sindaco, da una maggioranza, da una giunta. Chi non va a votare fa decidere agli altri cosa succederà. E' importante quindi che la gente capisca questo messaggio importante e fra due settimane vada a fare una scelta che noi ovviamente auspichiamo sia la scelta indirizzata verso i candidati della Lega Nord perché hanno dimostrato di sapere amministrare e amministrare bene. A differenza degli altri che utilizzano magari la maldicenza sull'avversario senza fare una proposta di governo seria e credibile. Noi facciamo la proposta ma abbiamo anche dimostrato di saperla realizzare.